Custodisco la memoria delle passate stirpi, delle gesta di uomini, delle antiche fiorenti città. Celebro e narro di storie, miti e leggende. Il mio nome è Clio, dal greco antico, Cleos, fama, gloria. Sono la musa della storia e ti racconterò delle inclite terre di Metapontium, gloriosa polis maniugreca. La fortunata posizione geografica del sito di San Salvatore, a sei chilometri dall'antico centro di Metapontium, su un terrazzo situato alla destra del fiume Bradano, ha favorito nell'area forme insediative stabili, sin dall'età del bronzo, epoca a cui risale una necropoli. Di età greca è invece l'impianto di una fattoria, come testimoniato dal ritrovamento di alcune tombe, caratterizzate da ricchi corredi, databili tra fine VI e IV secolo a.C., e dalla presenza di un antico canale di bonifica realizzato con tecniche costruttive elleniche. Le strutture e i materiali archeologici rinvenuti attestano anche la presenza di un possibile luogo di culto pertinente alla Cora, inserito in un contesto di notevole importanza, databile tra il V e il IV secolo a.C. I materiali raccolti sono attribuibili a classi diverse, terrecotte e motive fittili, statuette e tessere,